Continua l'offensiva russa in Ucraina dove l'esercito di Mosca avanza nel nord-est del paese. A preoccupare la situazione nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dove sono ancora in corso combattimenti in più di 30 località. Quasi 6.000 residenti sono stati evacuati. Da venerdì 10 maggio le forze russe hanno attraversato il confine per un'offensiva in direzione delle città di Lipsi e Vovchansk, rispettivamente a circa 20 e 50 chilometri a nord-est di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Domenica 12 maggio un condominio di 10 piani è crollato nella città russa di Bielgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Il bilancio delle vittime è di 15 persone. Secondo le autorità di Mosca, l'edificio è stato distrutto dai frammenti di un missile ucraino, abbattuto dalla difesa aerea russa durante un massiccio attacco con almeno 12 missili. Putin ha dato una scossa alla sua cerchia ristretta, rimescolando il gabinetto di governo dopo l'insediamento per il suo quinto mandato presidenziale. Ha nominato l'ormai ex ministro della difesa, Sergei Shoigu, a capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, al posto di Nikolai Patrushev, altro fedelissimo del presidente. Shoigu è stato ministro della difesa per 12 anni, ma il recente arresto di uno dei suoi vice con l'accusa di corruzione è stato ampiamente interpretato come un attacco nei suoi confronti e un preambolo della sua destituzione. Shoigu ha svolto un ruolo importante nell'invasione russa dell'Ucraina e le implicazioni del suo licenziamento sulla guerra sono ancora tutte da vedere. Al posto di Shoigu, Putin ha nominato Andrei Belusov, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di vice primo ministro. Un portavoce del Cremlino ha dichiarato che il ruolo è stato affidato a un civile perché il ministero deve essere aperto alle innovazioni. L'Egitto e la Libia si uniranno alla causa intentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza. La mossa diplomatica ha una grande risonanza in quanto l'Egitto è stato finora con il Qatar uno dei mediatori regionali tra Israele e Hamas. Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha parlato con il ministro della difesa di Israele, Yoav Gallant, ribadendo la posizione di Washington sulle operazioni a Rafa, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno ancora visto un piano chiaro e credibile per proteggere i civili. I morti a Gaza sono ormai più di 35.000 e Blinken ha denunciato che a cadere negli attacchi delle forze di difesa israeliane nella striscia sono stati più civili che terroristi. Abbiamo forti preoccupazioni per Rafa, ha detto anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a che tempo che fa. La scorsa settimana il governo sloveno ha avviato la procedura per il riconoscimento di uno Stato palestinese. Venerdì l'Assemblea generale dell'ONU ha raccomandato a larga maggioranza al Consiglio di Sicurezza di promuovere la Palestina da osservatore a membro a piano titolo delle Nazioni Unite. Ha vinto il partito socialista le elezioni anticipate in Catalogna con il 27,94% delle preferenze, guadagnandosi 42 seggi su 135, mentre il partito indipendentista di centro-destra giunse per Catalogna, guidato dall'ex presidente della Catalogna, Carles Puigmon, si è fermato al 21,64% con 35 seggi. La terza forza politica più votata domenica è stata Eschierra Repubblicana, il partito indipendentista di centro-sinistra che ha ottenuto il 13,68% dei voti e 20 seggi. Il partito popolare e Vox hanno ottenuto rispettivamente il 10,97% e il 7,95%, ovvero 15 e 11 seggi. Le elezioni anticipate di domenica sono state indette dopo che il presidente catalano ha sciolto il Parlamento locale, visto che la maggioranza che lo sosteneva non era sufficientemente solida. Dopo anni in cui la politica catalana è stata ossessionata dall'indipendentismo, questa volta in campagna elettorale si è parlato anche di sanità, istruzione e spesa pubblica e della grave siccità che ha colpito la regione. Il presidente della Lituania sembra in procinto di ottenere un secondo mandato come capo dello Stato dopo il primo turno a queste ultime elezioni presidenziali. In una replica delle elezioni del 2019, il presidente lituano Gitanas Nauseda affronterà la prima ministra Ingrida Simonita nel secondo turno delle elezioni presidenziali del paese. Nauseda ha perso per un pelo la possibilità di essere rieletto al primo turno, raccogliendo circa il 44% delle preferenze. Simonita ha ricevuto invece il 19% dei voti e l'appoggio di uno solo dei sei candidati perdenti. Mentre lavoravano nel governo lituano, i due si scontravano regolarmente. Il sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia e il rafforzamento della spesa per la difesa sono stati due rari punti di accordo. Nei paesi baltici è forte il timore di finire nel mirino di Mosca e di essere i prossimi obiettivi del Cremlino. La presidente della Commissione Europea von der Leyen si trova qui a Roma. Una visita che arriva nel bel mezzo della campagna elettorale. Nella giornata di domenica la presidente ha partecipato al programma televisivo che tempo che fa nell'intervista ha toccato numerosi temi dalla guerra in Ucraina al Green Deal, ai rapporti tra Europa e Cina. Parlando di Ucraina ha anche sottolineato la necessità di continuare a difendere il paese contro l'aggressione della Russia proprio perché in questo modo ha detto si preserva la pace in Europa. E poi parlando della necessità di creare una difesa europea ha detto che l'Europa deve fare di più in questo senso. A proposito invece delle elezioni europee, delle eventuali alleanze che potrebbero nascere al termine delle elezioni ha detto che tutto verrà deciso una volta che i risultati saranno resi noti. Ha detto però che senza fare nomi specifici si sente pronta a collaborare con quelle forze politiche che hanno in comune una serie di valori dall'essere pro Europa, pro Ucraina all'essere pro Stato di diritto. Ma la von der Leyen è qui a Roma anche per incontrare il leader di Forza Italia Antonio Tajani, entrambi fanno parte del Partito dei Popolari Europei con Tajani che lancia la campagna elettorale di Forza Italia proprio oggi qui a Roma. Non è chiaro se la von der Leyen avrà un incontro ufficiale con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sembrerebbe di no, almeno stando a indiscrezioni della stampa. Quello che sappiamo però è che la Presidente della Commissione Europea ha espresso l'intenzione di ricandidarsi e se da un lato l'ECR ha detto di essere pronto a collaborare con il Partito dei Popolari Europei dopo le elezioni ha preferito però non esprimere un candidato di punta. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Giorgia Orlandi, Euronews Hallo, ich bin Noah Just, 16 Jahre alt und ich freue mich, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal an der EU-Wahl teilnehmen darf und unsere EU mitgestalten kann. Wenn ich Europaabgeordneter wäre und die Welt retten könnte, würde ich mich dafür einsetzen, dass die Naturschutzgebiete in Rumänien geschützt werden. Denn aktuell kaufen große Möbelkonzerne diese Gebiete auf und roden sie anschließend, um daraus Möbel herzustellen. Ich möchte dies verhindern und das Klima schützen, damit ich meine Zukunft und die Zukunft meiner Kinder sichern kann. If I'm elected as a member of the European Parliament, I will work, I will fight to defend the European democracy, our common values, freedom, liberty, justice. It's essential, it's important and we will keep the social dimension, fighting for our rights, fighting for our freedom and thinking in our future generation. In Germania è entrata in funzione una carta di pagamento per i richiedenti asilo dopo l'approvazione del Parlamento il mese scorso. A seconda degli stati, i sussidi mensili possono essere in parte caricati sulla carta e in parte versati in contanti. I fondi non possono essere trasferiti all'estero. le reazioni. tra i versati infirstsor di grazare si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.